Buongiorno, bentrovate sul mio canale. Realizzeremo oggi insieme questo stupendo orecchino molto molto semplice e divertente da realizzare, tutorial in collaborazione con Sfera Colori di Paola Belardi. Paola mi ha inviato dei materiali bellissimi e non ho resistito, quindi insieme abbiamo deciso di realizzare questi kit in collaborazione con Sfera Colori. Saranno selezionati anche altri colori oltre a questo che vi mostrerò e potete trovare ovviamente tutto l'assortimento dei kit disponibili e tanto altro materiale selezionato per voi sul sito Sfera Colori. vi metto in info box il link del sito. Quindi per questo orecchino abbiamo bisogno semplicemente di rivoli 14, perle da 4 mm, perle da 6 mm, poi qualche drop duo, proprio pochissime, e semplicemente un perno oppure una monachella. Nel kit troverete ovviamente tutto l'occorrente per realizzarli e tranne, come al solito, il filo e l'ago. Io sto utilizzando un ago della Beardsmith, questi che ho preso appunto da Paola, i Color Eyes, che hanno molto carina la cruna, come vedete, colorata, e questo è un 11. e ovviamente il classico e solito mio Fireline da 0,15 mm, non da 15 mm. Realizziamo quindi subito il nostro orecchino in maniera molto molto semplice e veloce. Infiliamo sul nostro ago 8 perle da 4 mm, alternate da 8, 11, 0. Abbiamo bisogno semplicemente delle 11, 0 migliuchi per realizzare questi orecchini, non ci servono altre rocaille. Allora, come al mio solito, la guiata è molto lunga, quindi ne utilizzo metà per volta. Porto quindi le mie perline a metà del filo che ho a disposizione e faccio un paio di nodini in maniera molto molto delicata per evitare di far accavallare il filo sulle perline. Eccomi qui e stringo bene. Dopodiché ripasso tra le perline per allontanarmi dal nodo, esco da una delle 11, 0 ed infilo sul lago 5, 11, 0. Questa incastronatura è veramente semplicissima da realizzare, è una netted semplificata, quindi ci inseriamo nella 11, nella perla successiva e nella 11, saltando la perla, e ripetiamo altre tre volte su tutto il giro questo passaggio, quindi inserisco 11, 0, entro come vedete nella 11, nella perla e nella 11 e vado avanti. Terminato il giro, andrò a ripassare nelle perline inserite appunto nel primo giro. E quindi entriamo nelle perle e nelle 11 per stringere il lavoro e per fissarlo anche, quindi vedete, andiamo a ripassare qui in maniera molto molto semplice. Completato il nostro giro, andiamo a passare quindi tra le 11, 0 dell'archetto, di uno degli archetti che abbiamo realizzato, e usciamo da una delle 11, 0 al centro, quindi dalla terza dell'archetto di 5. Mettiamo adesso sul nostro ago 7, 11, 0, 7 rocaille. Eccole qui, ed entriamo in quella centrale dell'archetto successivo. Lo ripetiamo ovviamente per tutto il giro, quindi altre tre volte, per realizzare la nostra incastonatura. Terminato il giro, ripassiamo ancora una volta tra queste rocaille che abbiamo inserito, per stringerle e fermarle. Però, prima appunto di stringere completamente, andiamo ad inserire a pancia in giù, a faccia in giù, il nostro rivoli. Eccolo qui. Quindi andiamo a ripassare nuovamente tra queste perline. Eccoci qui. Passiamo ancora tra queste. Tiriamo bene. Vedete che le perline vanno a posizionarsi sopra al nostro rivoli e vanno praticamente a racchiuderlo. Adesso dovrò praticamente uscire da questa 11, 0 che si trova al centro di questo archetto, e quindi dalla quarta dell'archetto di 7, e inserisco tre rocaille, tre 11, 0, ed entro al centro dell'archetto successivo, quindi nella quarta dell'archetto successivo. Tiro bene il filo e lo ripeto per tutto il giro. Terminato il giro, sono ripassata ancora una volta tra le 11, 0 che ho inserito in questo giro, quindi queste che ci sono al centro, che formano questa specie di rombo, e poi ripasserò tra le perline per arrivare in questo punto, quindi ad uscire da questa 11, 0 per poter eseguire la decorazione sul mio rivoli. Allora, metto bene le perle. Eccoci qua. Inizio quindi ad inserire una perla da 6, una 11, 0 e una perla da 6, ed entro nella 11, 0 che si trova in questa posizione. Lo ripeto per altre tre volte per tutto il giro, mantenendo ben teso il mio filo. Terminato il giro, ripasserò nuovamente tra le perline per dare più stabilità al lavoro e più consistenza, quindi non dobbiamo fare altro che ripassare nelle perline appena inserite. Terminato il giro, usciamo da una di queste perle, in questa posizione, e inseriamo una drop duo in questo modo, quindi con la parte, diciamo, della goccia rivolta, aiuto. Rivolta in questo modo, io stavo cercando di guardare quale lato mi piacesse di più, ok, mi piace di più questo, e quindi la infilo al contrario. Aiuto, oggi non riesco, no, è questo, ok. Allora, quindi inserisco la drop in questo modo, tiro bene il filo, ok, così. E quando ripasso questo punto, non entro nella 11, perché poi, passando troppe volte, rischeremo di non riuscire ad entrare per i passaggi successivi. Quindi vado ad inserire tutte le drop negli spazi tra le perle. Vedete? Ecco qua. E tiro bene il filo. Lo ripeto, ovviamente per tutto il giro, e ci vediamo quando abbiamo finito. Terminato il giro, ripassiamo ancora una volta tra le perline, sempre per dare più stabilità, e portiamoci poi ad uscire da una delle perle da 6 mm, che precede una drop. Inseriamo sull'ago 311.0, ed entriamo nella perla successiva, nella 11, e nella perla che la segue. E realizziamo quindi questo gruppetto di rocaille, scusate, la 11, la salto, che è sempre meglio. Passo con il filo ovviamente dietro alla 11.0, in modo che non si veda, e appunto creiamo questo gruppetto di perline, per coprire quel pezzettino di filo che si vede. Ok? Quindi ripeto questo passaggio per tutto il giro, e ci vediamo alla fine. Terminato il giro, ripassiamo tra le perline, ed usciamo da una 11.0 in questa posizione. A questo punto mettiamo sul nostro ago 411.0 e una perla da 4 mm, in questo modo, ed entriamo nel foro superiore della nostra drop, in questo modo. Dopodiché inseriamo una perla e 411.0, in maniera speculare ovviamente, ed entriamo qui. Ripetiamo quindi questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qua. Lo ripetiamo per tutto il giro. Terminato il giro, andiamo a passare di nuovo tra queste perline, e dobbiamo creare praticamente, in queste posizioni, dei piccoli picot. Per creare i picot, io, per evitare di ripassare poi tantissime volte, eccetera, magari che poi il lago, il filo, non passano più tra le perline, faccio in questo modo. Inserisco 311.0, entro nel verso opposto, nel foro della drop, entro di nuovo nella prima 11.0, salto quella al centro, entro nella seconda, ok, e poi proseguo tra le perline. Come vedete, tirando bene, ok, le perline assumono la giusta posizione, vedete, si forma il nostro picot. Faccio questo per tutto il giro, e quando ripasso, salto comunque la 11.0, che si trova qui al centro, perché non mi occorre più passarci, e si stringono comunque ulteriormente le nostre perline. Quindi, lo ripeto, per tutto il giro, però, quando arrivo sul secondo che inserisco, preferisco fare direttamente il cappietto per inserire il perno oppure la monachella, perché poi non mi piace avere il cappietto, scusate, ho preso un pazzo di filo, non mi piace avere il cappietto troppo vicino al punto dove appunto termina il nostro filo. Quindi, tiro bene, vedete, e a questo punto inserisco 5.0, io faccio direttamente così, metto direttamente la mia monachella nel, senza utilizzare poi le pinze, eccola, vedete, eccola qui, ripasso quindi di nuovo tra le perline, scusate se faccio spesso questo movimento che vado fuori fuori dalla visuale della telecamera, ma è un movimento che faccio per tenere in tensione il filo, perché altrimenti poi mi vedete, lo faccio in questo modo, tengo il filo in tensione e mi viene automatico, non mi rendo conto che magari posso darvi fastidio, perché magari non vedete poi quello che combino, però in realtà è semplicemente questo, cioè questo tipo di movimento che faccio per tendere il filo mentre lavoro. Allora, adesso non devo fare altro che ripassare tra le perline e fare praticamente gli ultimi due picò che mi sono rimasti da fare e quasi dimenticavo il nome del nostro orecchino. Allora, come nome ero un po' in difficoltà perché comunque mi ricordava un po' come dire l'Inghilterra vittoriana, un po' i Tudor, un po' un genere che solitamente poi io utilizzo molto, ma dato che praticamente l'ho utilizzato quasi tutti i nomi che richiamano diciamo a quel periodo, ho chiesto aiuto a Ginevra e io ho mostrato l'orecchino lei impazzita di gioia, mamma, è bellissimo, che bei colori, quanto brillano e allora ho detto Gì, dia mamma, come vogliamo chiamarlo questo orecchino e lei mi ha detto mi piace tanto, lo vorrei chiamare charm nel senso proprio di fascino e quindi chiameremo questo orecchino charm come suggerito dalla piccola Ginevra vi ricordo appunto che la lista dei colori utilizzati dei materiali utilizzati la trovate qui in infobox vi ricordo che trovate anche i link per il sito Sfera Colori con il quale è stato realizzato in collaborazione questo tutorial questi materiali e anche altri kit in altre colorazioni potete appunto trovarli sul sito e amo particolarmente questi abbinamenti di colori che sono anche un po' diversi da quelli soliti che utilizzo e sono rimasta appunto affascinata da colorazioni un po' insolite per me e mi faceva appunto un piacere potervele proporre e ammirarle insieme io intanto che parlo continuo a lavorare mentre chiacchiero e come vedete nel frattempo chiacchiera chiacchiera il nostro orecchino praticamente è terminato mi sono resa conto che vado spesso fuori fuoco con questo orecchino perché brillano troppo le perline sono troppo luminose metalliche molto brillanti e muovendomi vado fuori fuoco spessissimo spero comunque che il tutorial sia stato chiaro spero che vi siano piaciuti questi orecchini e mi sono piaciuti tantissimo e inoltre vi invito anche ad utilizzarlo come bracciale con più moduli uniti tra di loro magari proprio in quest'angolo con un'altra perla da 6 mm e sono carinissimi guardate che carino utilizzato come modulo per un bracciale veramente molto molto bello e quindi grazie grazie come sempre realizzare insieme questo tutorial un mi piace al video e al prossimo tutorial ciao ciao